era piccolo mettiamo in un'officina meccanica e invece no ovviamente per mangiare non si accontenta più della forchetta esatto c'è questo attrezzo che è tutta una struttura che si apre in questo modo e poi si richiude e non sembra neanche una sala operatoria ecco, questo è il chiodo e questo è il tavolo che può essere usato a modi esatto